Sono contro questa Europa perché non è in grado di garantire le nostre imprese contro la concorrenza sleale dei prodotti che vengono da paesi dove i lavoratori sono trattati come schiavi. È giusto difendere il Made in Italy, è giusto tornare a difendere i nostri prodotti. Basta importare tutte quelle porcherie che vengono fatte chissà dove. Bisogna cambiare, voglio tornare a sperare e non mi rassegno a vedere che ci portano via il lavoro e anche la speranza. Grazie a tutti.